Buongiorno a tutti e a tutte e benvenute al secondo incontro del corso di formazione Laboratorio di Problem Posing and Solving e il tema di oggi è proprio il Problem Posing and Problem Solving nell'ambito spazio e figure. Io sono Francesco Floris, sono un dottorando dell'Università di Torino. Io sono Francesca Casasso, sono una borsista del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell'Università di Torino ed entrambi facciamo parte del Delta Research Group coordinato dalla professoressa Marina Marchisio che ha tenuto appunto il primo incontro di questo corso di formazione insieme al professor Conte. Di cosa parleremo oggi? Quindi in questo incontro verranno presentati tre esempi di attività per lo sviluppo di competenze di Problem Posing and Solving che potranno essere utilizzate in classe nelle attività didattiche. Lavoreremo nell'ambito spazio e figure e in particolare verranno mostrati tre problemi contestualizzati dal titolo colpirò la statua, lavatrice e patruiamento in mare. Ok, come già è stato fatto nello scorso incontro vogliamo prima di tutto andare a vedere l'importanza del Problem Posing e del Problem Solving nelle indicazioni nazionali e linee guida del Ministero dell'Istruzione. Vediamo proprio che è richiesto agli studenti di conoscere le metodologie di base per la costruzione di un modello matematico e di saper applicare quanto appreso proprio per la soluzione di problemi utilizzando anche strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo. Infatti viene detto appunto che gli strumenti informatici oggi disponibili offrono contesti idonei per rappresentare e manipolare oggetti matematici e proprio l'insegnamento della matematica offre numerose occasioni per acquisire familiarità con questi strumenti anche per capirne il valore metodologico. Quindi l'uso degli strumenti informatici è una risorsa importante che deve essere introdotta in modo critico naturalmente senza creare l'illusione che sia un mezzo automatico di risoluzione di problemi. Però in ogni caso resta molto importante. I problemi che presenteremo oggi sono problemi contestualizzati e realizzati nell'ambito del progetto ministeriale Problem Posing and Solving. Fanno parte di una raccolta di 100 problemi di matematica che sarà di prossima pubblicazione in cui appunto sono contenuti problemi che riguardanti tutti e quattro gli ambiti della matematica e che saranno appunto sono previsti in questo percorso di formazione. Questi problemi hanno delle caratteristiche comuni, sono tutti contestualizzati in situazioni reali, quindi mettono gli studenti in contesti a loro familiari. Alcuni sono stati prodotti e progettati sia dai docenti che dai tutor che hanno lavorato e lavorano al progetto nei primi dieci anni di vita, sono stati sperimentati nelle classi che partecipano al progetto PPS e sono aperti a diversi approcci e strategie risolutive che consentono di attivare e valutare competenze matematiche differenti. Questi problemi sono pensati per offrire ai docenti della scuola secondaria di secondo grado spunti da inserire nelle proprie attività didattiche con un approccio proprio del problem posing and solving. I problemi, come abbiamo detto prima, sono classificati secondo i quattro nuclei tematici fondamentali, quindi aritmetica e algebra, geometria euclidea e cartesiana, insiemi e funzioni, probabilità e statistica. E per ogni problema sono specificati gli obiettivi specifici di apprendimento che il problema stesso mira a sviluppare. Quelli di oggi sono ovviamente nel nucleo tematico di geometria euclidea e cartesiana. Altre particolarità di questi problemi sono che ogni problema ha numerose richieste, in questo modo il docente può scegliere se sviluppare l'intero problema o una sola parte durante la sua attività didattica, quindi sono facilmente adattabili a diversi contesti, diverse situazioni e sono tutti risolti sfruttando le potenzialità di un ambiente di calcolo evoluto. Questo perché? Perché un ambiente di calcolo evoluto permette di concentrarsi sulle strategie risolutive piuttosto che semplicemente sui calcoli da eseguire. Permette di creare delle componenti interattive che permettono da un lato di sviluppare un pensiero computazionale, dall'altro di esplorare la situazione problematica e quindi permettono agli studenti di fare delle ipotesi e verificare immediatamente se queste ipotesi sono coerenti o meno col problema proposto e ovviamente permettono di generalizzare il problema e quindi andare a creare il modello matematico che il problema stesso presenta. Ok, quindi come abbiamo detto oggi ci andiamo a soffermare proprio sul problem posing e problem solving nell'ambito spazio e figure e prima di tutto vogliamo andare a vedere i riferimenti istituzionali in questo ambito. Partiamo appunto dalle indicazioni nazionali e linee guida del liceo scientifico e per quanto riguarda il primo biegno proprio specificatamente alla geometria vediamo che il primo biegno ha come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del piano. Verranno acquisite le conoscenze delle principali trasformazioni geometriche e le principali proprietà invarianti e anche le proprietà fondamentali della circonferenza. Viene poi detto che la realizzazione di costruzioni geometriche elementari verrà effettuata sia mediante strumenti tradizionali come riga e compasso sia mediante programmi informatici di geometria come poi infatti andremo a vedere più avanti. Inoltre sempre nel primo biegno lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane principalmente per la rappresentazione di punti, rette, fasci di rette nel piano e per le proprietà di parallelismo e perpendicolarità e poi successivamente per lo studio delle funzioni quadratiche che si accompagnerà poi alla rappresentazione geometrica delle coniche nel piano cartesiano. Continuando sempre con le indicazioni nazionali e linee guida per il liceo scientifico andiamo a vedere invece cosa viene richiesto nel secondo biegno sempre relativo alla geometria. Si inizieranno a studiare le sezioni iconiche sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. Si studieranno poi le proprietà della circonferenza del cerchio e il problema della determinazione dell'area del cerchio e poi la nozione di luogo geometrico. Infine lo studio della geometria proseguirà con l'estensione allo spazio di alcuni temi che erano stati introdotti nella geometria piana e in particolare verranno studiate le posizioni reciproche dirette di piani nello spazio, il parallelismo, la perpendicolarità e poi le proprietà dei principali solidi geometrici. Infine nel quinto anno verranno introdotte le coordinate cartesiane nello spazio. In questo modo lo studente potrà iniziare a studiare da un punto di vista analitico le rette, i piani e le sfere. Passando invece alle indicazioni nazionali per il liceo artistico notiamo come nel liceo artistico appunto un'attenzione particolare deve essere data a tutti quei concetti e quelle tecniche che hanno particolare rilevanza nelle arti grafiche quindi in particolare verrà data particolare attenzione alla geometria analitica descrittiva e proiettiva. Entrando anche in questo caso nel primo biennio per quanto riguarda le specifiche delle indicazioni nazionali vediamo come ritorna la costruzione geometrica sia mediante usi di tecniche tradizionali che mediante programmi informatici e ovviamente anche qui ci saranno da apprendere i principi matematici di base coinvolti nella rappresentazione di figure sia nello spazio che nel piano e quindi in particolare essendo il liceo artistico i problemi di rappresentazione delle figure quali si presentano nel contesto proprio artistico. Per quanto riguarda invece il secondo biennio qui verranno approfonditi i fondamenti matematici della prospettiva e quindi approfondire le relazioni che tra le conoscenze acquisite in ambito geometrico e le problematiche di rappresentazione figurativa e artistica e nel quinto anno verranno anche qui studiate le principali proprietà dei solidi geometrici in particolare dei dei poliedri. Quindi passando invece alle linee guida per gli istituti tecnici abbiamo scelto di concentrarci in particolare sul primo biennio che è una parte comune a tutti gli indirizzi abbiamo come anche in questo caso per quanto riguarda gli obiettivi generali ci siano la capacità di confrontare ad analizzare figure geometriche di individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi e oltretutto con un utilizzo consapevole degli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico per le rappresentazioni grafiche o per l'analisi e l'interpretazione di situazioni problematiche. Per quanto riguarda invece l'ambito geometria tra le abilità da sviluppare al termine del primo biennio abbiamo appunto l'eseguire costruzioni geometriche elementari utilizzando sia la riga del compasso sia gli strumenti informatici e oltretutto porre, analizzare e risolvere problemi del piano e dello spazio utilizzando appunto le proprietà delle figure geometriche. Ok passiamo adesso a vedere il primo problema che vogliamo proporvi oggi. Come anticipato il problema si intitola colpirò la statua e vediamo che appunto tocca i nuclei tematici della geometria euclidea e cartesiana. In particolare andrà a toccare triangoli, cerchi parallelogrammi, i sistemi di riferimento ai luoghi geometrici e le funzioni circolari. Sono poi specificati gli obiettivi che si vogliono andare a raggiungere con la risoluzione di questo problema. Innanzitutto si vogliono utilizzare i risultati principali della geometria euclidea, in particolare la geometria del triangolo e del cerchio. Si vuole fare uso delle funzioni circolari per esprimere le relazioni tra gli elementi di una data configurazione geometrica. Poi molto importante la scelta di opportuni sistemi di riferimento per l'analisi di un problema e anche l'obiettivo di studiare rette coniche e le loro intersezioni nel piano. Anche qui ritorniamo un attimo sulle indicazioni nazionali per i licei, per andare a vedere quali sono i riferimenti istituzionali a cui ci siamo appunto accostati per lo sviluppo di questo problema, che come abbiamo già visto prima, in particolare lo studente deve apprendere a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, e poi lo studio delle funzioni quadratiche che si accompagna alla rappresentazione geometrica delle coniche nel piano cartesiano. Inoltre abbiamo anche lo studio delle funzioni circolari e le loro proprietà e soprattutto, per questo problema in particolare, l'uso delle funzioni circolari nell'ambito di altre discipline, in particolare nella fisica. Andiamo a soffermarci quindi proprio sul problema. L'argomento, come abbiamo visto e detto, è spazio e figure. La contestualizzazione scelta è una contestualizzazione di tipo storico, infatti siamo nella seconda guerra mondiale e in particolare il lancio di un proiettile. Per quanto riguarda la progettazione dell'attività, l'insegnante potrà poi scegliere se proporre il problema come attività singola in cui lo studente individualmente prova a risolvere il problema o un'attività di gruppo, tutti insieme in classe o suddivisi in gruppi. Si può scegliere di proporre il problema in modalità tradizionale, quindi magari dando il testo del problema e facendolo risolvere con carta e penna agli studenti, oppure utilizzare le tecnologie come per esempio un ambiente di calcolo evoluto. Infine il docente dovrà poi decidere anche come valutare l'attività e alla fine di questo incontro mostreremo poi una griglia di valutazione pensata proprio in particolare per il problem posing e il problem solving. Andiamo ora a vedere proprio la formulazione del testo. Come ho detto, il contesto è un contesto storico, infatti il problema dice sulla collina che si trova tra Arona e Dagnente nella provincia di Novara si trova la statua di San Carlo, un colosso con un'altezza di circa 23,40 metri su un piedistallo di granito alto 11,70 metri. Il monumento si trova su una collina alta 310 metri sul livello del mare. Il San Carlone, così chiamato con affetto dagli aronesi, è tra le statue visitabili all'interno, secondo per altezza solo alla Statua della Libertà, che appunto fu costruita studiando proprio la struttura della statua aronese. Durante la Seconda Guerra Mondiale alcune truppe tedesche accampate presso Meina si erano posto l'obiettivo di conquistare Arona e per evitare lungo la strada e ad Arona stessa di trovarsi sotto il fuoco nemico, convinti che all'interno della statua ci fosse una postazione militare, decisero di sparare e colpire alle spalle il San Carlone. Data l'altezza, la statua è visibile già da Meina, che si trova a una distanza di circa 1800 metri in linea d'aria ed è da lì che partì il colpo. La strada dalla quale i tedeschi spararono è a 200 metri sul livello del mare. Quindi questa è la formulazione del testo. Prima di andare a vedere quali sono le richieste, volevamo appunto soffermarci un attimo su questo testo. Vedete come il contesto è proprio storico, che può essere coinvolgente per gli studenti. Anche i dati sono contestualizzati, quindi sono tutti reali. Il problema quindi è un problema interdisciplinare che magari può anche essere svolto con l'aiuto dell'insegnante di storia, magari per fare un'introduzione appunto al problema. Abbiamo poi sotto il testo subito una schematizzazione grafica tramite questa immagine che può aiutare magari gli studenti anche ad avere più chiara la situazione che viene descritta. Andiamo adesso a vedere le richieste. La prima richiesta è la seguente. Assumendo una traiettoria totalmente rettilinea del proiettile, che è impossibile nella realtà e approssimabile con velocità iniziale del proiettile tendente ad infinito, calcolare l'angolo di elevazione rispetto all'orizzontale con il quale i tedeschi spararono, sapendo che colpirono la statua alle spalle e che la testa misura 2,4 metri. La seconda richiesta. Supponiamo ora che il moto del proiettile sia parabolico, è sparato con lo stesso angolo di inclinazione ricavato nel punto precedente con una velocità di 850 metri al secondo. Quanto più in basso rispetto alle spalle il proiettile avrebbe colpito la statua, trascurare eventuali altri fattori come la resistenza dell'aria e poi rappresentare le due traiettorie nello stesso piano cartesiano. Infine, la terza richiesta è quella di costruire un sistema di componenti interattive che, data l'altezza di una statua situata su una collina, la distanza in linea d'aria tra la statua e la postazione delle truppe tedesche e il dislivello della collina rispetto al punto di attacco, restituisca l'angolo di fuoco necessario per corpire la statua, tralasciando la forza di gravità, e, data la velocità iniziale del proiettile, calcoli quanto più in basso rispetto al punto sotto la testa, il proiettile colpirebbe la statua considerando un moto parabolico e non rettilineo. Quindi, anche in questo caso, il problema, oltre alla matematica, tocca anche la fisica e infatti si possono appunto ricercare diversi collegamenti interdisciplinari e le richieste sono graduali in ordine di difficoltà per favorire anche l'apprendimento adattivo degli studenti e la terza richiesta, come abbiamo già detto prima, richiede appunto di costruire un sistema di componenti interattive che permette di generalizzare il problema e costruire un modello matematico. Andiamo a vedere nello specifico ora la costruzione del processo risolutivo. Andiamo a vedere come si può risolvere la prima richiesta, quindi quella di calcolare l'angolo di elevazione rispetto all'orizzontale. In questo caso abbiamo accostato alla spiegazione scritta alle parole anche un registro grafico a sostegno appunto della risoluzione per far capire meglio la risoluzione agli studenti. Infatti, per calcolare la traiettoria rettilinea del proiettile, questo significa semplicemente calcolare l'ipotenusa di un triangolo rettangolo che ha l'angolo retto alla base della collina. Infatti, vediamo la costruzione di questo triangolo rettangolo dove A è la posizione dei soldati tedeschi, C è il punto sotto la testa dove viene colpita la statua e B è il punto individuato dall'intersezione della retta parallela al piano orizzontale per A con la retta verticale per C. Di questo triangolo rettangolo noi conosciamo già AB che è la distanza orizzontale tra i soldati tedeschi e la statua che era 1800 metri e possiamo invece ricavarci facilmente BC che è l'altezza delle spalle della statua rispetto all'altezza sul livello del mare della strada da cui spararono i tedeschi che sarà appunto dato dalla differenza delle due altimetrie sul livello del mare a cui viene sommato il basamento e la misura della statua fino all'altezza delle spalle quindi dobbiamo all'altezza totale della statua togliere poi l'altezza della testa della statua quindi ci ricaviamo in questo modo facilmente anche il cateto BC che è 142,7 metri adesso possiamo in questo modo calcolare semplicemente l'angolo con il quale i tedeschi hanno sparato basta infatti utilizzare la funzione arcotangente al rapporto tra il cateto opposto e quello adiacente vedete che quindi anche la soluzione richiede comunque dei prerequisiti teorici per riuscire ad affrontare il problema quindi trovando appunto l'arcotangente del rapporto troviamo l'angolo l'angolo in questo caso lo riceviamo in radianti e possiamo convertire appunto l'angolo in radianti in gradi sessadecimali e poi anche più precisamente in gradi sessagesimali per farlo possiamo utilizzare anche un comando dell'ambiente di calcolo evoluto per appunto semplificare i calcoli e le conversioni passiamo invece alla risoluzione della seconda richiesta quindi ipotizziamo ora che il proiettile abbia un moto parabolico e quindi che venga trascinato verso il basso dalla forza di gravità ci chiediamo quindi quanto più in basso rispetto alle spalle il proiettile avrebbe colpito la statua qui vediamo proprio che vengono richieste delle competenze che si apprendono in fisica infatti per trovare appunto un moto parabolico abbiamo che in un sistema di riferimento cartesiano la posizione x y in funzione del tempo di un proiettile che viene lanciato da un punto di coordinate x con 0 y con 0 con una velocità iniziale v con 0 che avrà la componente orizzontale v con 0 x e componente verticale v con 0 y è data dalle due equazioni che vedete scritte e bisogna naturalmente ricordarsi quanto vale g l'accelerazione di gravità quindi possiamo fissare noi un sistema di riferimento in cui l'origine degli assi coincide con il punto A dove stanno i soldati tedeschi dove viene appunto lanciato il proiettile quindi il nostro punto iniziale x con 0 y con 0 sarà l'origine e l'asse delle x invece coincide con la retta AB del triangolo di prima sapendo appunto la velocità iniziale possiamo calcolare semplicemente le sue componenti orizzontali e verticali ricordando che l'angolo è quello trovato nel punto precedente e volevamo soffermarci in particolare sul fatto che attraverso l'utilizzo di un ambiente di calcolo evoluto per la risoluzione di problemi è possibile assegnare anche delle variabili e poi richiamarle in seguito per esempio in questo caso abbiamo assegnato alla variabile v con 0 x e alla variabile v con 0 y il loro valore numerico e le richiameremo in seguito nella risoluzione del problema infatti andiamo a vedere che l'equazione del moto sull'asse delle x e appunto x uguale a v con 0 x per t dove v con 0 x sarà il valore che abbiamo assegnato precedentemente e anche il moto sull'asse delle y non possiamo andare a richiamare i valori che abbiamo assegnato in precedenza quindi abbiamo trovato le due equazioni del moto sull'asse delle x e sull'asse delle y dalla prima equazione possiamo andare a trovare il tempo e andiamo a sostituirla nella seconda per trovare proprio l'equazione cartesiana del moto parabolico anche in questo caso è possibile utilizzare dei comandi dell'ambiente di calcolo evoluto per fare in modo che gli studenti si focalizzino in particolare sulla risoluzione del problema e sui contenuti e non tanto sullo svolgimento dei calcoli numerici quindi in questo modo abbiamo trovato l'equazione della traiettoria del proiettile a questo punto per capire a che altezza verrà colpita la statua è sufficiente chiedersi qual è l'ordinata del punto che ha come ascissa 1800 metri quindi andiamo a sostituire nell'equazione trovata x uguale a 1800 e troviamo l'altezza alla quale il proiettile colpirà la statua in questo caso abbiamo trovato 120,57 metri che è circa 22 metri più in basso rispetto al punto colpito nel lancio precedente che ci aspettavamo a causa della gravità possiamo poi andare a rappresentare graficamente i grafici delle due traiettorie in modo tale da avere chiara la situazione e volendo possiamo farlo proprio all'interno dell'ambiente di calcolo evoluto che permette proprio l'utilizzo di diversi registri infine andiamo a generalizzare la soluzione quindi a creare un sistema di componenti interattive che vedete chiede di impostare l'altezza del monumento chiede proprio agli studenti di scegliere con lo slider l'altezza del monumento mantenendo fissa comunque la testa della statua che sarà comunque alta 2,4 metri viene chiesto di impostare la distanza orizzontale dallo sparo al monumento di impostare l'altezza della collina sul livello del mare e di impostare l'altezza della strada dove si trovano i tedeschi sul livello del mare e infine di impostare la velocità iniziale del proiettile come output la componente interattiva ci restituirà l'angolo con il quale i tedeschi dovranno sparare considerando il moto del proiettile un moto rettilineo e invece ci restituirà anche quanti metri più in basso il proiettile colpirebbe la statua rispetto appunto alle spalle considerando invece un moto parabolico e infine ci restituisce anche i grafici delle due traiettorie vediamo proprio il funzionamento della componente interattiva vedete si possono inserire proprio i numeri lo studente può farlo e ci restituisce subito il risultato e volendo c'è la possibilità anche di modificare l'angolo di scegliere in che modo ricevere l'angolo se in sessadecimali o in sessagesimali ok bene passiamo quindi al secondo problema di questo incontro il problema si chiama appunto lavatrice e come nuclei coinvolge oltre a quello di geometria euclidea e cartesiana anche il nucleo insieme funzioni vedremo quindi come tocca triangoli, cerchi e parallelogrammi le funzioni circolari le figure geometriche sia nel piano sia nello spazio mentre per quanto riguarda il nucleo insieme funzioni verranno toccate le funzioni e le successioni elementari allora gli obiettivi che questo problema si propone di sviluppare sono quelli di utilizzare la geometria del triangolo e del cerchio e ovviamente anche gli elementi fondamentali della geometria solida quindi la capacità di dimostrare proposizioni di geometria euclidea sia con metodo sintetico che analitico servirsi delle funzioni circolari per esprimere relazioni tra gli elementi di una data configurazione geometrica ovviamente scegliere determinati sistemi e opportuni sistemi di riferimento per l'analisi di un problema e a partire dall'espressione analitica di una funzione elementare individuare le caratteristiche salienti del suo grafico e viceversa anche in questo caso siamo andati un po' a guardare quali tra i riferimenti istituzionali quindi tra le indicazioni nazionali per il liceo vengono coinvolti dalla risoluzione di questo problema e quindi abbiamo che anche in questo caso il richiamo è alla realizzazione di costruzioni geometriche elementari sia con i metodi tradizionali sia mediante i programmi informatici di geometria che è quello appunto che verrà fatto nel problema che presentiamo e ovviamente anche come ci sia un richiamo allo studio e all'estensione, allo spazio di alcuni temi tipici della geometria piana al fine di sviluppare proprio l'intuizione geometrica in particolare in questo problema vedremo alcune delle proprietà dei principali solidi geometrici per quanto riguarda invece i richiami alle indicazioni nazionali ma alla parte di funzioni abbiamo che lo studente acquisirà quindi la conoscenza di semplici esempi di successioni numeriche e approfondirà anche lo studio delle funzioni elementari dell'analisi in particolare della funzione esponenziale della funzione logaritmo sarà quindi in grado di costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale anche in relazione allo studio con delle altre discipline concentriamoci quindi un po' di più sul problema l'argomento è lo stesso di tutti quelli di oggi quindi spazio e figure abbiamo come contestualizzazione l'utilizzo e il funzionamento di una lavatrice e anche in questo caso come per tutti i problemi abbiamo la possibilità di progettare l'attività secondo diverse modalità quindi sia un'attività singola o in cui si chiede allo studente di risolvere il problema sia con metodi tradizionali o utilizzando le tecnologie la possibilità di lavorare sia con l'intera gruppo classe quindi proiettando per esempio il problema oppure semplicemente assegnando il problema a dei gruppi di studenti che dovranno risolverlo e poi fare una discussione generale sulle varie strategie e gli approcci risolutivi utilizzati dagli studenti e ovviamente quindi per tutte queste modalità si può pensare a una modalità di risoluzione tradizionale o utilizzando le tecnologie e gli strumenti informatici appropriati e anche in questo caso particolare attenzione deve essere data alla valutazione dell'attività passiamo al testo del problema si tratta dell'acquisto di una nuova lavatrice in cui sono riportate determinate caratteristiche quindi in particolare vengono presentati due cicli di lavaggio quello lavaggio o il risciacquo e per il ciclo di lavaggio viene utilizzata una quantità di 80 grammi di detersivo e una quantità di 21 litri per il risciacquo ovviamente non c'è nessuna quantità di detersivo che quindi sarà pari a zero e la quantità di acqua è la stessa invece del lavaggio quindi 21 litri il contesto è reale quindi perché il tema del funzionamento di una lavatrice è comunque un tema che è più o meno vicino ai nostri studenti quindi sanno di cosa stiamo parlando vengono poi date le dimensioni anche in questo caso sono contestualizzate quindi dimensioni realistiche dell'interno della capsula del cestello della nostra lavatrice quindi di forma cilindrica con una determinata profondità che in questo caso è pari a 47,5 cm e con un certo diametro di 48 cm l'oblo qui è stato approssimato a una semisfera con un diametro dato in relazione al diametro della capsula cilindrica e accompagnato a questa descrizione diciamo numerica della dimensioni della nostra lavatrice è stata aggiunta una grafica tridimensionale della stessa la particolarità della grafica tridimensionale è che gli studenti utilizzando un ACE questo si può appunto eseguire permette questo agli studenti di manipolare il grafico quindi non è un grafico statico è un grafico tridimensionale manipolabile quindi gli studenti possono ruotarlo osservare la situazione problematica da differenti punti di vista e angolazioni e quindi avere ben chiara la forma e la struttura del cestello della lavatrice prima di proseguire col problema quindi che continua appunto con la parte relativa alle richieste c'è una piccola premessa che questa sulle normative europee riguardanti quindi ad esempio il residuo di detersivo che deve rimanere nella lavatrice al termine del ciclo di lavaggio che è un dato contestualizzato è un dato che permette ad esempio dei collegamenti interdisciplinari con diritto anche altre materie come ad esempio la chimica o quant'altro e soprattutto è un dato che può essere scelto di dare o non dare agli studenti per permettere anche un'esplorazione quindi si può semplicemente dire verificare che come nella richiesta 2 che è la lavatrice conforme alla normativa europea però senza dare ai nostri studenti quale sia effettivamente questa normativa quindi la possibilità di far andare loro a cercare questo dato in questo caso noi abbiamo scelto di inserirlo abbiamo inserito la descrizione delle parti per milione giusto per essere ancora più chiari e abbiamo dato un'idea di quant'è il residuo di detersivo al termine di ciascun risciacquo quindi Martino procede secondo le istruzioni a eseguire il primo lavaggio a vuoto quindi senza indumenti aspetta che la lavatrice effettivamente carichi tutta l'acqua necessaria e osserva il livello di acqua raggiunto rispetto all'oblò quindi di 4 cm si passa quindi alle richieste quindi la prima ci dà come preindicazione il fatto che il 4% dell'acqua caricata rimane nel manicotto di raccordo tra il cestello e la capsula e quindi ci chiediamo ma effettivamente Martino osservando questi 4 cm raggiunti dall'oblò può affermare che la lavatrice carichi effettivamente 21 litri di acqua come dichiarato ci chiediamo quindi come seconda richiesta se la lavatrice è conforme alla normativa europea tenendo conto che per ciascun ciclo di lavaggio sono previsti 7 risciacqui e poi la terza parte che è quella della generalizzazione della modellizzazione della situazione problematica ci chiede di individuare una funzione che esprima appunto il residuo indetersivo in funzione del numero di risciacqui e come ulteriore richiesta la possibilità di determinare se aumentando il numero di risciacqui è possibile eliminare ogni traccia di detersivo anche in questo caso l'apprendimento è adattivo le richieste sono sempre in ordine graduale di difficoltà ovviamente l'ultima richiesta è sempre quella della modellizzazione perché è una delle richieste più difficili da far svolgere ai nostri studenti ecco passiamo quindi alla costruzione del processo risolutivo è quella che noi proponiamo qui è in particolare una delle possibili risoluzioni e delle possibili strategie risolutive scelte quindi per prima cosa per calcolare per rispondere alla prima domanda bisogna calcolare il volume occupato dall'acqua durante il lavaggio e per determinare questo volume dobbiamo tenere conto di due fattori il primo è il volume della porzione di cilindro fino all'altezza nell'oblò visualizzata da Martino il secondo fattore è invece la porzione di questo volume del cilindro occupata dalla semicalotta sferica che rappresenta l'oblò quindi la prima cosa possiamo iniziare dal volume della porzione di cilindro che può essere ovviamente calcolata come area di base per l'altezza del cilindro il primo dato quindi che abbiamo è appunto l'altezza del cilindro che è la profondità del nostro cestello quindi 47,5 cm e dobbiamo calcolare però l'area della porzione dell'area di base per calcolare il volume che è un'area che può essere data ecco dalla differenza di un settore circolare al quale va sottratto però il volume del triangolo rappresentato dal livello raggiunto dall'acqua quindi per aiutare però anche a capire il processo risolutivo abbiamo inserito per i nostri studenti una rappresentazione grafica in questo modo è chiara la sezione ecco che stiamo individuando è perché l'area del come calcolare l'area di base sottraendo al settore circolare l'area di quel triangolo che vediamo in figura quindi per calcolare l'area del settore circolare possiamo applicare appunto la formula un mezzo R quadro per teta quindi teta è l'angolo del settore circolare al quale dobbiamo togliere ovviamente l'area del triangolo che può essere calcolato come un mezzo R quadro che sono i due cateti del triangolo due lati del triangolo per il seno dell'angolo compreso tra di loro e quindi vediamo lì poi che c'è anche una semplificazione della formula e quindi a questo punto l'unico dato che ci rimane da calcolare in quanto abbiamo il valore del raggio è il valore dell'angolo teta allora abbiamo qui un'altra rappresentazione che ci può un po' più chiarire la situazione dobbiamo andare a calcolare quello che è diciamo l'altezza di quel triangolo di quel triangolo rettangolo che è pari alla differenza tra i due raggi al quale però va aggiunto anche diciamo il livello di acqua che Martino osserva dall'oblò quindi abbiamo anche qui ovviamente il grafico aiuta gli studenti a capire cosa stiamo andando a calcolare passo per passo sappiamo che la differenza tra i due raggi era di 48 quinti centimetri in quanto ci veniva dato dal problema che il cilindro aveva raggio 24 centimetri e il raggio dell'oblò invece era i tre quinti del raggio del cilindro quindi calcoliamo così velocemente la differenza alla quale dobbiamo aggiungere poi i 4 centimetri visualizzati da Martino trovata quindi questi dati possiamo calcolare appunto l'altezza del triangolo il triangolo rettangolo è calcolata l'altezza del triangolo rettangolo possiamo calcolare l'angolo teta in realtà grazie al triangolo rettangolo possiamo calcolare la metà dell'angolo teta quindi teta sarà uguale a due volte l'arcoseno dell'altezza del triangolo fratto il raggio che ovviamente è 24 perché è sempre il raggio del cilindro una volta calcolato il valore di teta possiamo calcolare sfruttando la definizione della formula che abbiamo visto prima per il settore dell'area circolare e semplicemente sostituendo a teta il suo valore è calcolare quindi il volume di acqua occupata dalla sezione cilindrica alla quale ovviamente dobbiamo togliere ancora il volume della calotta quindi abbiamo all'incirca 20.029 centimetri cubi quindi per ora siamo all'incirca 21 litri un po' meno 20 litri di acqua che vengono caricati dalla lavatrice e determiniamo quindi ora il volume della calotta sferica in questo caso qui abbiamo deciso di rappresentare sia direttamente la formula che vedete riportata sia anche il procedimento utilizzato per ricavarla quindi passando dal calcolo del volume di un solido di rotazione attraverso gli integrali che abbiamo qui riportato quindi abbiamo sia il calcolo dell'integrale quindi la rappresentazione della formula che permette di calcolarlo sia la sua semplificazione fatta direttamente con l'ambiente di calcolo evoluto quindi anche in questo caso l'attenzione è posta più sul sulla strategia risolutiva che e quindi sui contenuti piuttosto che sulle capacità di calcolo dei nostri studenti ok determinato quindi il volume il raggio e quindi della calotta sferica abbiamo trovato anche questo volume quindi il volume totale di acqua all'interno della lavatrice sarà dato appunto dalla differenza tra il volume che abbiamo calcolato prima della sezione cilindrica meno il volume della sfera che è quello che abbiamo calcolato adesso della semicalotta trasferica abbiamo quindi un volume pari a 19,7 litri ma ci dobbiamo ricordare dell'altra premessa del problema ovvero che il 4% dell'acqua caricata dalla lavatrice rimane all'interno del manicotto di raccordo quindi quello che noi abbiamo calcolato effettivamente è il 96% dell'acqua totale utilizzata dalla lavatrice per calcolare il 100% ci basterà dividere questo volume per 0,96 e otteniamo appunto 20.522 centimetri cubi di acqua che sono all'incirca una buona approssimazione 21 litri di acqua come dichiarato nell'etichetta della nostra lavatrice quindi possiamo rispondere che effettivamente rispetto alla prima domanda la lavatrice carica esattamente 21 litri come dichiarato passiamo alla seconda richiesta quindi la richiesta sulla conformità della lavatrice rispetto alla normativa europea in questo caso la tematica sulla quantità di residuo di detersivo è una tematica importante che quindi c'è anche una sensibilizzazione degli studenti nei confronti di questa tematica come appunto lo sviluppo sostenibile abbiamo la definizione della normativa quindi 25 fratto 10 alla sesta parti per milione che devono rimanere al termine del ciclo di lavaggio e dobbiamo andare a calcolare se rispetto ai dati che noi abbiamo iniziali quindi quegli 80 mg di detersivo fratto i 21 litri di acqua e al termine del ciclo di risciacquio appunto questa quantità si è diminuita in maniera sufficiente per rientrare nei parametri della normativa quindi ad ogni risciacquio sappiamo che rimane il 5% quindi la quantità di detersivo diminuisce del 95% quindi dopo 7 risciacqui avremo una quantità di detersivo pari a 80.000 fratto 21 milligrammi litro per 5 fratto 100 alla settima e quindi confrontando questo valore con il valore di riferimento della normativa e anche in questo caso facciamo fare questo confronto direttamente al software abbiamo il valore vero come risultato quindi sappiamo che questa lavatrice effettivamente nel suo ciclo di lavaggio che comprende 7 risciacqui è conforme alla normativa europea e per quanto riguarda la generalizzazione abbiamo la possibilità di andare a chiederci se aumentando il numero di risciacqui la quantità di detersivo può essere pari a 0 quindi eliminare totalmente ogni traccia di detersivo rispetto alla funzione che abbiamo visto prima l'unica variabile da aumentare è il numero di risciacqui quindi la funzione può essere facilmente modellizzata come quella che vediamo qui rappresentata quindi 80.000 fratto 21 milligrammi litro che è la quantità di detersivo iniziale per la quantità di detersivo rimanente al termine di ogni risciacquo elevato al numero di risciacqui che in questo caso abbiamo indicato con la variabile x quindi si va a studiare questa funzione che può essere un fatto sia in maniera analitica che in maniera grafica noi abbiamo scelto qui di rappresentarla in maniera grafica e vediamo che al crescere di x per caratteristiche e per proprietà della funzione esponenziale quindi aumentando il numero di risciacqui il residuo di detersivo si riduce sicuramente sempre di più ma non sarà mai 0 si avvicinerà a 0 ma non lo sarà mai definitivamente e infatti graficamente la funzione che abbiamo definito ammette come asintoto orizzontale appunto l'asse delle x quindi possiamo rispondere che non è mai possibile eliminare il detersivo del tutto ma non solo siamo andati anche avanti abbiamo visto la costruzione di una componente interattiva in cui possiamo chiedere ai nostri studenti di inserire la quantità di detersivo utilizzata dalla lavatrice e anche la quantità di acqua richiesta da ciascun ciclo di risciacquo questo perché perché ci possiamo chiedere ma una lavatrice che lavora con 21 litri di acqua e fa per esempio come in quella della nostra problema sette risciacqui comunque richiede per ciascun lavaggio oltre 140 litri di acqua quindi posso in qualche modo diminuire questi litri di acqua mi conviene diminuire i litri di acqua o aumentare il numero di risciacqui e tutto questo può essere fatto con una componente interattiva di questo tipo in cui la risposta può essere data attraverso direttamente il grafico come fatto qui infatti abbiamo fissato una vista sull'asse delle y molto dettagliata la retta orizzontale rappresenta il valore di riferimento della normativa europea e l'intersezione tra la funzione derivante che ha le stesse caratteristiche della funzione precedente ci dà un'indicazione di quanti risciacqui sono necessari per andare quindi per fare in modo che la lavatrice sia conforme alla normativa europea quello che possiamo osservare immediatamente dopo la presente slide è il codice utilizzato per far funzionare questa componente interattiva il codice può essere ovviamente la generalizzazione quindi la componente può essere data ai nostri studenti per esplorarla può essere chiesto in un'ottica di sviluppo di competenze anche di pensiero computazionale grazie di sviluppare i nostri studenti in cui vengono fatti dei controlli in modo che anche per esempio gli studenti prendano coscienza del fatto di quali sono i dati coerenti con la situazione problematica quindi in questo caso la quantità di acqua che deve essere comunque sempre maggiore di zero così come la quantità di detersivo e così via è la rappresentazione grafica della risoluzione per avere immediatamente un riscontro grafico su uno dei punti del problema in questo caso che era appunto la compatibilità con la normativa europea della nostra lavatrice ok allora concludiamo con il terzo problema in questo caso il problema si intitola pattugliamento in mare i nuclei che andremo a toccare con questo problema sono naturalmente quello della geometria euclidea e cartesiana e anche quello della probabilità e statistica in particolare per quanto riguarda la geometria andremo a vedere i sistemi di riferimento e i luoghi geometrici e per quanto riguarda probabilità e statistica andremo a vedere più nello specifico la probabilità di un evento gli obiettivi che vogliamo raggiungere con la risoluzione di questo problema sono proprio quelli di riuscire a scegliere opportuni sistemi di riferimento per l'analisi di un problema determinare luoghi geometrici a partire da proprietà assegnate e in particolare porre relazione equazione di esecuazioni con le corrispondenti parti del piano e infine determinare le probabilità di un evento andiamo sempre a riprendere le indicazioni nazionali per in particolare per i licei per vedere appunto quali sono i riferimenti istituzionali a cui ci siamo accostati per lo sviluppo di questo problema per quanto riguarda la geometria riprendiamo sempre la realizzazione di costruzioni geometriche elementari effettuata in particolare mediante programmi informatici di geometria oltre che mediante strumenti tradizionali come riga e compasso poi lo studente apprenderà a fare uso del metodo delle coordinate cartesiane che appunto sarà fondamentale nel nostro problema in particolare per la rappresentazione di punti rette e fasci di rette nel piano e infine andremo anche a studiare la proprietà della circonferenza e del cerchio e nonché la nozione di luogo geometrico proprio facendo degli esempi all'interno del nostro problema per quanto riguarda invece l'ambito del dati e previsioni andiamo a toccare la nozione di probabilità andremo ad approfondire in modo rigoroso il concetto di modello matematico e in particolare collegandolo con altre discipline ora entriamo un po' più nello specifico del nostro problema pattugliamento in mare l'argomento sono i luoghi geometrici come abbiamo visto e la probabilità di un evento e la contestualizzazione è quella di un pattugliamento in mare attraverso dei dispositivi radar anche in questo caso per la progettazione dell'attività suggeriamo attività singola in cui lo studente può risolvere in modo individuale il problema o attività di gruppo proiettando il problema alla LIM e anche in questo caso si può scegliere tra modalità tradizionale o utilizzando le tecnologie come appunto un ambiente di calcolo evoluto che abbiamo utilizzato per lo sviluppo di questo problema e infine suggeriamo di fare particolare attenzione alla progettazione della valutazione dell'attività e alla fine al termine di questo problema andremo a vedere una particolare griglia di valutazione andiamo a vedere ora la formulazione del testo di questo problema il contesto scelto è un contesto reale che può capitare nella realtà e che può essere particolarmente coinvolgente per gli studenti perché si si tratta appunto di un pattugliamento in mare di un motoscafo pilotato da alcuni pericolosi commercianti di droga in questo caso anche i dati sono contestualizzati quindi sono dei dati verosimili e e poi andiamo a vedere quali sono le richieste allora in particolare il testo del problema dice che una zona di mare aperto è controllata da un dispositivo radar con raggio di azione lungo 30 miglia ed è stato segnalato un motoscafo pilotato appunto da alcuni pericolosi commercianti di droga che si trova rispetto al radar 50 miglia a ovest e 40 miglia a sud i criminali in questo caso stanno per trasferire un carico di traffico illecito e seguono un percorso rettilino per raggiungere una destinazione segreta le richieste sono le seguenti in primo luogo ci chiediamo se ci sono possibilità di intercettazione per il radar quali sono poi le regioni di mare che conviene pattugliare al fine di rendere più facile intercettare i criminali e infine chiediamo appunto di calcolare qual è la probabilità che il radar intercetti il motoscafo andiamo a vedere la risoluzione della prima richiesta quindi se ci sono possibilità di intercettazione del radar e suggeriamo per inquadrare subito la situazione di andare a disegnare appunto innanzitutto il radar la motovedetta e i nostri punti cartinali possiamo utilizzare anche l'ambiente di calcolo evoluto per per fare il disegno ci sono appunto dei comandi appositi e in ogni caso suggeriamo comunque di utilizzare un grafico per schematizzare la situazione vedete appunto in questo grafico sul piano cartesiano il il puntino rosso e il radar che abbiamo scelto per facilitare la situazione di posizionarlo nell'origine e la motovedetta dei criminali che abbiamo appunto posizionato a 50 miglia a ovest e 40 miglia a sud quindi per analiticamente lo studente si deve accorgere che il percorso dei narcotrafficanti essendo un percorso sappiamo rettilineo appartiene sicuramente al fascio di rette centrato nella posizione iniziale del motoscafo e bisogna sfruttare invece il fatto che la regione di mare monitorata dal radar non è altro che una circonferenza di raggio 30 e centro 000 abbiamo infatti scelto di inserire il radar nell'origine quindi quello che dobbiamo fare è semplicemente quello di dobbiamo andare a trovare le condizioni secondo le quali il fascio di rette interseca il cerchio del radar e dobbiamo però anche fare attenzione al senso di marcia che non è indifferente in questo caso quindi come abbiamo già detto fissiamo un sistema di coordinate in cui posizioniamo il radar nell'origine posizioniamo il motoscafo nel punto meno 50 meno 40 e i nostri assi saranno invece identificati dalle direzioni sud nord e ovest est in primo luogo andiamo a determinare l'equazione della circonferenza che delimita la regione di mare monitorata dal radar anche in questo caso utilizziamo alcuni comandi dell'ambiente di calcolo evoluto per appunto per fare in modo che gli studenti si concentrino sui contenuti non tanto sulla risoluzione numerica e andiamo a rappresentare anche la regione di mare monitorata dal radar semplicemente la vedete in verde che l'abbiamo aggiunta al grafico precedente adesso quello che gli studenti devono devono accorgersi e che è necessario trovare le equazioni delle rette tangenti condotte dal punto dove si trova il motoscafo alla circonferenza tangente alla circonferenza quindi per trovare queste rette tangenti possiamo utilizzare anche in questo caso dei comandi dell'ambiente di calcolo evoluto troviamo appunto le tangenti di 1 e di 2 con le equazioni che hanno equazione riportata qui nelle slide e le andiamo anche in questo caso a riportare sul nostro grafico ora è proprio chiaro anche grazie all'utilizzo del grafico che il radar può intercettare il motoscafo se il motoscafo si muove in direzione e verso compresi fra le due rette tangenti che vediamo rappresentate quindi si il motoscafo può il radar può intercettare il motoscafo per rispondere invece alla seconda richiesta quindi quali regioni di mare conviene pattugliare andiamo proprio in modo analitico a trovare le pendenze delle rette tangenti anche in questo caso possiamo chiedere all'ambiente di calcolo evoluto di farlo al posto nostro e troviamo in questo modo le due pendenze la prima 2,31 la seconda 0,18 all'incirca quindi in questo modo facendo comunque lavorare scegliendo di far lavorare lo studente con i comandi dell'ambiente di calcolo evoluto può essere anche un modo per rendere lo studente protagonista del proprio apprendimento oltre che naturalmente come già diceva Francesco prima far sviluppare delle competenze di pensiero computazionale dopo aver trovato poi le due le due pendenze possiamo andare a trovare l'equazione del fascio di rette passanti per il per il punto dove si trova il motoscafo e possiamo poi andare a a rappresentare le due il fascio di rette comprese tra tra le due pendenze tra le due rette tangenti con le pendenze che abbiamo appena trovato in un grafico animato come vedete nelle slide il grafico animato sicuramente può essere un aiuto allo studente per comprendere meglio la situazione quindi dopo aver analizzato la situazione anche grazie all'aiuto del grafico possiamo trarre alcune conclusioni quindi se i criminali si muovono lungo le direzioni individuate dalle rette del fascio con centro M e pendenza compresa tra le pendenze delle due rette e direzione tale che X sia maggiore di meno 50 loro saranno intercettati dal radar invece se la pendenza delle rette che seguiranno che seguiranno la loro traiettoria è minore della della pendenza della prima retta e maggiore della pendenza della seconda retta e la direzione e il verso scusate tale che X è minore uguale di meno 50 il radar non riuscirà ad intercettare i criminali quindi le regioni di mare spezzate da queste rette queste ultime che abbiamo detto devono essere sorvegliate perché il radar non riuscirà a intercettarli infine viene appunto richiesto di calcolare la probabilità che il radar intercetti il il motoscafo per per farlo possiamo trovare qual è l'angolo tra le due rette tangenti anche in questo caso possiamo chiedere all'ambiente di calcolo evoluto di trovare l'angolo tra le due rette tangenti dopo avere trovato questo questo angolo possiamo appunto utilizzare la semplice formula casi favorevoli fratto casi possibili e trovare appunto la per trovare appunto la probabilità la troviamo in percentuale quindi moltiplichiamo per cento e troviamo che è il 15 per cento 15 virgola 5 per cento possiamo anche per per capire bene la situazione sempre utilizzare un un diagramma a torta e quindi la possiamo infine dire che la probabilità di intercettazione è di poco superiore al 15 per cento quindi appunto come già avevamo concluso prima conviene in ogni caso pattugliare il mare e non non solo farlo intercettare dal radar quindi una volta ecco visti i tre problemi vogliamo soffermarci un attimo su un esempio di griglia di valutazione che possiamo utilizzare per valutare le attività di questo tipo quindi le attività di problem posing solving la griglia che vi proponiamo che è quella che vedete riportata in questa slide è una griglia adatta in particolare ad un'attività di problem posing solving utilizzando un ambiente di calcolo evoluto è stato deciso di dividere la valutazione secondo cinque diversi indicatori quindi che sono comprendere quindi la capacità di analizzare la situazione problematica rappresentare i dati interpretarli e tradurli in linguaggio matematico il secondo indicatore è individuare quindi mettere in campo da parte dello studente le strategie risolutive attraverso una modellizzazione del problema e individuare la strategia più adatta per questa risoluzione il terzo indicatore è lo sviluppo del processo risolutivo quindi effettivamente quali sono le procedure e la risoluzione che segue il nostro studente in maniera coerente completa e corretta rispetto anche a quella che è la strategia individuata applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari e il quarto indicatore è la capacità di argomentare quindi commentare e giustificare opportunamente la scelta sia della strategia applicata sia dei passaggi fondamentali che vengono utilizzati quindi nel processo di esecuzione e di risoluzione del problema e ovviamente la capacità di argomentare i risultati che lo studente ottiene risolvendo il problema e l'ultimo indicatore che riveste ovviamente un particolare importanza nelle attività con un ACE è appunto l'utilizzo che lo studente fa dell'ambiente di calcolo evoluto quindi se è in grado di utilizzare l'ambiente di calcolo evoluto in maniera opportuna i suoi comandi in maniera adeguata è ovviamente efficace per la risoluzione del problema quindi andando a utilizzare o meno uno o più registri possibili o tra le possibilità ovviamente date dal software un'altra particolarità è che questi indicatori vengono poi divisi in livelli quindi per ciascun indicatore sono individuati quattro livelli che aiuta ad inserire diciamo lo studente in una fascia in cui per ciascun indicatore questa griglia di valutazione così particolare e dettagliata permette allo studente di andare a capire esattamente per ciascun indicatore al momento qual è il suo livello quindi come ha sviluppato la strategia risolutiva come ha compreso il problema come è riuscito quindi la sua capacità di argomentare quello che è stata la sua strategia o i risultati che ha ottenuto e anche il livello col quale al momento è in grado di utilizzare l'ambiente di calcolo evoluto in particolare quindi questo può essere anche una sorta di incitamento di incoraggiamento a migliorarsi per raggiungere i livelli più alti per ciascun indicatore quindi saprà esattamente lo studente per ciascuno di essi per ciascuno di essi come dovrà porsi nella risoluzione successive e quindi migliorare e quale indicatore migliorare su quale indicatore lavorare per avere una valutazione più alta in questo caso ok noi abbiamo concluso vi lasciamo alcuni articoli scientifici per comprendere meglio l'argomento e anche alcuni siti o video di approfondimento in particolare vi abbiamo lasciato qua il sito del progetto PPS e la bibliografia e la sitografia a cui abbiamo fatto riferimento vi ringraziamo per l'attenzione e vi ricordiamo il prossimo incontro che sarà centrato sempre sul problem posing e sul problem solving in particolare nell'ambito relazioni e funzioni grazie buona giornata a tutti